Ciao, buona serata, anzi. Abbiamo finito di parlare delle opere di giorni di Esiodo e vi ho accennato che avrei detto qualcosa riguardo a una famosissima donna della mitologia, ovvero Pandora. C'è anche la mia assistente oggi, mi assiste e fa domande, diciamo così. Esatto, faccio la parte dello studiente. Esatto, esatto, perché anche lei sta studiando filosofia come i miei due fratelli, quindi non si occupa molto della parte mitologica e storica. Mi sono interessata a conoscere questo lato, di solito non mi occupo. E' anche emozionata, e lo sono anch'io, quindi se sbagliamo a parlare stiamo facendo una cosa veramente accampata oggi. Tra l'altro ho un passaggio della Teogonia di Esiodo che vi leggerò dal telefono perché non ho il libro con me. Allora, partiamo subito dalla Teogonia di Esiodo. Teogonia è un'altra delle opere di Esiodo insieme alle opere di giorni, che si occupa invece della nascita e dello sviluppo della genia degli dei. E vi è un mito nella Teogonia che riguarda Pandora, la prima donna creata da Efesto, a cui tutti gli dei diedero una qualità meravigliosa, e a cui Hermes, dio invece messaggero e astuto, comunque furbo, diede la capacità di ingannare. Perché questo? Riallacciandoci alle opere dei giorni, sappiamo che Zeus voleva punire gli umani perché il titano, il prometeo, aveva donato di nascosto dagli dei, il fuoco sacro degli dei, agli uomini. Così che potevano in questo modo tenersi caldo, esatto, creare un ambiente comunque comportevole. E questo però era proibito agli uomini e era stato portato via gli dei per essere dati agli uomini. E Zeus non piaceva questa cosa, voleva punire gli uomini in qualche modo. Come decide di punire gli uomini? Creando qualcosa di apparentemente bellissimo, ovvero una donna. Questa donna è Pandora, andiamo a leggere il passaggio della Teogonia, così ti rendi conto subito. Quando poi ebbe plasmato un bel malanno in cambio di un bene, la condusse subito là, dove c'erano gli altri dei e gli uomini, fiera dell'ornamento della dea dagli occhi lucenti, figlia di padre potente. Qua stiamo parlando chiaramente di Atena, che aveva dato la bellezza e l'astuzia e l'intelligenza a Pandora. Meraviglia prese gli dei immortali e gli uomini mortali, quindi piaceva a tutti, come videro l'inganno scosceso, senza rimedio per gli uomini. Da lei, infatti, deriva la stirpe delle donne, morbide assai. Da lei, infatti, la stirpe dell'Eteria e la razza delle donne sciagura grande per i mortali quando abitano con i maschi e non sono compagni della funesta povertà, ma della sazietà. Ma, attenzione, stiamo parlando di una donna che è intesa quasi come a livello biblico, di una prima Eva, che porta il peccato. Tenta l'uomo. Esatto, tenta l'uomo. Questa è una donna in grado, Pandora, di tentare l'uomo, perché è bella, ha tutte le caratteristiche che una donna meravigliosa dovrebbe avere per piacere, sia gli dei che gli uomini. Si parla, però, di una donna che è compagna, non della povertà, ma della sazietà. Quindi stiamo parlando di una donna anche ambiziosa. Perché porta l'uomo in tentazione? Perché porta l'uomo a perdersi? Perché non si accontenta. Non si accontenta, esattamente. È una donna che non si accontenta. Pandora ha questa caratteristica della curiosità. La curiosità di Pandora porterà gli uomini alla rovina. Perché? Lo andiamo a vedere subito. Quando Zeus presenta, finalmente, questa donna meravigliosa alla stirpe degli uomini, la dà in sposa a un re, non un semplice uomo, un re, che si chiamava, io non ricordo male il nome, Epimeteo. Epimeteo sposa Pandora e, come dono di nozze, lei porta un vaso. Noi abbiamo questo vaso, adesso tienilo in mano. È simbolico. Tienilo chiuso con la mano. Perfetto, non avevo un tappo, perché... Un coperchio o qualcosa. Ci arrangiamo. Questo vaso, dato a Pandora da Zeus, contiene, per due versioni diverse del mito, o tutti i mali, ok, della Terra, oppure tutti i beni dell'Olimpo. La versione dei mali dice questo. Pandora, troppo curiosa, voleva sapere che cosa c'era dentro questo vaso, allora che cosa fa? Pandora decide di aprirlo. Apre il vaso e vede uscire da questo vaso tutti i mali che cominciano a correre sulla Terra. Allarmata riesce a richiuderlo in tempo solamente per trattenere un'ultima cosa dentro al vaso, che è la speranza, dono ultimo degli uomini, d'accordo? Ok. Questa è una delle versioni. L'altra, forse ti piacerà di più. Perché appunto la speranza è un male, è inteso come un male. In effetti non è inteso come un male, ma è come dire, ci sono tutti i mali in fondo al vaso, c'era nascosta la speranza. Però forse è più bello vedere l'altra versione, che è quella che il vaso conteneva davvero tutto il bene. Zeus quindi a Pandora aveva dato questo potere immenso, un vaso contenente tutti i beni per l'uomo, che appartenevano agli dei. Ma lei è troppo curiosa, lui sapeva l'avrebbe fatto, ha aperto il vaso. Dal vaso sono scappati fuori tutti i beni, sono ritornati all'Olimpo. Quindi all'uomo non è rimasto nulla, se non che lei ancora con la mano è riuscita a bloccare e ha fermato l'unica cosa che resta all'uomo, che è la speranza. La speranza. Ci trovo molto più poetica questa versione. Questo è un mito molto molto importante. Secondo me possiamo invitare i nostri filosofi peribatetici, te compresa, in un prossimo video peribatetici a parlare della speranza. Che cos'è la speranza per l'uomo? Mandiamo la palla a loro? Vabbè, mandiamo la sfida. Aggiungo che non a caso Epimeteo è colui che vede male, quello che vede a metà, a differenza di Prometeo, fratello, invece che lungimirante. È stato un po' inquietante, mi rendo conto, questa sorpresa. Grazie.